Rigenerazione urbana, ormai questa è una necessità, la priorità? Sì, non è più una scelta o meglio se non cavalchiamo la rigenerazione urbana ma seriamente con una visione di quello che sarà e che vorrà essere questo paese nei prossimi 30 anni, credo che questo paese sarà destinato a essere travolto da una totale stasi che già stiamo purtroppo vivendo da molti anni. Sono 50 anni che in Italia non si parla davvero del problema di trasformare, innovare e manutendere questo paese. Il terremoto attuale, l'ultimo, anche quelli precedenti, parliamo dell'Aquila, parliamo del Vigna Romagna, ma questo ultimo in Italia centrale ci ha fatto ricapitolare rispetto a quello che conoscevamo e ci ha fatto focalizzare alcune cose fondamentali. Il disfacimento totale di alcune zone totalmente ormai inesistenti ci ha fatto capire che la riqualificazione è qualcosa di serio perché vuol dire riprogettazione, che deve tener conto anche di quello che era la realtà locale e anche la socializzazione locale. Ma nello stesso tempo ci ha fatto capire che il sisma non solo distrugge ma comunque annienta l'identità, cancella, cioè tutto quello che vediamo è una sorta di disgregazione, di franamento del sistema. Il secondo, il mio punto di vista, manca una visione strategica, l'ho detto anche al Senato quando sono stato, quindi anche sul tema della ricostruzione. Si parla del dov'era com'era, ma prima di pensare al dov'era com'era su delle aree che sono in questo momento in grossa difficoltà, dove la gente se andava già prima del terremoto, bisogna pensare a un'economia che sostenga tutto quanto questo, quindi favorisca che la gente rimanga e ritorni quella che è andata via. Quindi c'è una politica in questa direzione e allora con questo poi è possibile.